Salve a tutti lettori, benvenuti o bentornati su questo canale. Io sono sempre Federica e oggi voglio parlarvi di libri malinconici. Il primo titolo malinconico di cui voglio parlarvi è un graphic novel ed è PSOV edito da Thunue. Io consiglio sempre questo graphic novel perché per me è stupendo, è bellissimo ed è malinconico secondo me perché parla del passaggio dall'età dell'infanzia all'età adulta. Quindi parla di una parte della vita che parecchi di noi ricordano con nostalgia, ricordano con malinconia anche perché in quell'età siamo molto vulnerabili, quindi magari sono successe liti, conflitti, eventi che ci hanno segnato profondamente. Quindi questo è un graphic novel che quando mi trovo in questo periodo di malinconia, in questo mood malinconico, rileggo molto volentieri. Altro libro dal mood malinconico è Il treno dei bambini di Viola Ardone. Io l'ho letto in due giorni ma giusto perché purtroppo si deve lavorare, altrimenti l'avrei letto in una giornata perché non riuscivo a staccarmene. Parla di una storia vera, ovvero di un treno veramente esistito che poco dopo la fine della seconda guerra mondiale portava bambini dal sud Italia al nord dove arrivavano in famiglie adottive che li aiutavano a vivere, a sopravvivere durante l'inverno, poiché questi bambini venivano da famiglie piuttosto malmesse, famiglie povere, che non potevano dargli tutto quello che le famiglie adottive avrebbero potuto dare loro. È un libro molto malinconico che mi dà molta malinconia proprio perché parla di un periodo non facile per la nostra storia ma anche perché la storia di Amerigo ovvero il bambino protagonista mi mette sempre molta malinconia perché parla del suo distacco dalla mamma per poi approdare in questa famiglia del nord Italia con tutti i pro e contro di questa separazione e dell'arrivo in una nuova famiglia. Io lo consiglio tantissimo perché parla di una parte di storia che spesso non viene raccontata e viene raccontata appunto tramite gli occhi di un bambino. Altro libro che per me è il libro malinconico per eccellenza ovvero il postino di Neruda. Io sono sicura che tutti quanti abbiamo visto il film tratto dal postino di Neruda con Troisi ovvero l'ultima interpretazione di Massimo Troisi prima della morte. Questo libro io lo trovo molto molto malinconico perché va a finire male. Il film è un po' diverso rispetto al libro. Il libro va a finire male ma male male. Però io lo trovo comunque sempre molto bello malinconico perché si termina in un modo brutto. Però il percorso che si fa lungo tutto il libro è stupefacente. Parla di amore, di sentimenti, della bellezza della natura e poi c'è Neruda con le sue poesie. Io lo amo e anche se mi suscita delle emozioni tristi verso la fine amo l'agrodolce che mi dà perché ci sono alcune pagine che parlano di amore all'interno di questo libro che per me sono eccezionali. Quindi se avete visto il film e ve ne siete innamorati avete fatto benissimo perché il film è bellissimo ma vi consiglio di leggere anche il libro. Ecco, sì, agrodolce, malinconico. Questi sono gli aggettivi che mi suscita ogni volta questo romanzo. Altro romanzo che per me è molto malinconico è un mattone famosissimo ovvero questo qua 4321 di Paul Oster all'interno del quale l'autore immagina quattro possibili vite per il suo protagonista, tutte e quattro che partono da un unico evento. Quindi Paul Oster fa una sorta di esercizio alla sliding doors e immagina quattro possibili vite del suo protagonista. Lo trovo molto malinconico perché da quando l'ho letto non posso fare a meno di pensare la stessa cosa alla mia vita. Cioè mi chiedo sempre come sarebbe stata la mia vita se avessi preso una decisione invece di un'altra. E quindi questo mi mette un po' di malinconia però non una malinconia che mi rende infelice. Non so se mi sono spiegata. Cioè non è una brutta sensazione. È comunque una sensazione che è molto introspettiva. Perciò mi piace molto questo libro e perciò lo consiglio tanto. Il prossimo libro che vi mostro è un libro poco conosciuto. Infatti io non lo vedo spesso né su youtube né su instagram, tanto meno su tiktok. Ed è questo qua. L'inconfondibile tristezza della torta al limone. L'ho letto da poco e mi è piaciuto molto perché proprio lo ritengo molto malinconico. La protagonista ad un certo punto della sua vita si rende conto di riuscire a sentire i sentimenti delle persone che le preparano il pranzo, che le preparano i pasti. Ovvero riesce a sentire la tristezza nella torta al limone che la mamma le prepara. La trama è molto molto originale perché non mi era mai capitato di avere a che fare con una protagonista con questa tipologia di potere diciamo così. Però poi il libro si rivela essere anche altro, si rivela essere qualcosa in più. Un libro molto profondo che parla anche del non detto all'interno delle famiglie perché forse se all'interno della famiglia della protagonista si fosse parlato di più determinate cose non sarebbero successe. però parla anche di tristezza, di insoddisfazione, di amarezza. Ecco quindi non è un libro che mi ha messo proprio tristezza ma ha molta malinconia. Però è davvero molto molto bello e mi dispiace che sia così sconosciuto. E niente questi erano i libri malinconici che volevo consigliarvi. Fatemi sapere giù nei commenti se ci sono dei libri malinconici, tristi ma non di quella tristezza devastante tanto che vi fanno piangere, che vi sono piaciuti. Se avete letto questi libri pure scrivetemi giù nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Prima di lasciarvi vi ricordo di supportare il canale iscrivendovi, commentando e lasciando un mi piace. Magari potreste girare su whatsapp questo video a qualche vostro amico lettore al quale piace leggere libri malinconici. Per oggi ho finito, vi ho detto tutto, vi lascio un grande bacio, al prossimo video, ciao ciao!